Oggi abbiamo rappresentata la filiera dell'immobiliare, abbiamo persone con cui FIAIP ha lavorato per tanto tempo come associazioni. Questo è stato un po' anche il lavoro degli ultimi anni, quello di cercare di rappresentare le esigenze non solo di una categoria, ma insieme costruire qualcosa che possa essere rappresentativo di fronte all'istituzione e alla politica. Per cui con piacere chiedo al Presidente Ance Campana di venireci a portare il suo saluto e a dirci un po' la sua opinione sul momento attuale. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, ringrazio soprattutto il Presidente Righi che mi ha dato questo onore di poter presenziare qui al vostro importante congresso. Voi siete sicuramente gli ultimi della nostra filiera, però siete più importanti, perché se noi produciamo ma poi voi non ci vendete, noi siamo sempre nei guai. Oggi si parla di una piccola ripresa, ma forse può darsi che io abbia girato il canocchiale all'incontrario, perché io la vedo molto lontana ancora. Salvo forse qualche eccezione, come può essere qualche territoriale, tipo Milano che ha un mercato totalmente diverso, Roma lo stesso, ma anche lì non mi sembra che facciano i salti di gioia i miei colleghi. E' un momento difficilissimo. Io purtroppo, essendo diversamente giovane, ne ho visti tanti dei momenti, ma come questo non ne ho mai visti. Per quanto riguarda, io devo dire che la vostra associazione ha progredito molto. Una volta eravamo abituati ad avere, anche se io li stimavo, ho sempre stimato molto, allora si chiamavano mediatori, oggi agenti immobiliari, perché il vostro è un lavoro difficilissimo, il nostro non è facile sicuramente, è molto rischioso. Oggi io veramente non so più se sono più folle o più coraggioso, forse un misto di tutti e due, ma anche voi non siete da meno, penso, perché il nostro lavoro è molto legato, dobbiamo lavorare in simbiosi, è sicuramente un lavoro difficile. Oggi io vedo quante visite fatte in un cantiere prima di riuscire a vendere un appartamento, ma passate le ore, i giorni, le settimane. Credetemi, non è per ringraziare, per ringraziarmi la vola platea, ma io vi ho sempre apprezzato, perché quando voi fate il lavoro seriamente, prima di vedere i risultati ci impiegate tanto, tanto anche voi. Oggi poi in un mondo dove il mercato, c'è un mercato che io direi che è difficilissimo, ma delle volte ci lascia stupito. Vi trovate di fronte a della clientela tante volte arrogante, pensa che tutti stiano fallendo e quindi siete costretti magari a portarci delle offerte di cui vi vergognate voi stessi e purtroppo questo però è il mondo con cui dobbiamo lottare. Io nella mia veste mi sto ormai da anni battendo molto a livello politico, perché le nostre abitazioni, ormai voi lo sapete, sono gravate da tasse talmente elevate. Prima ha detto il Presidente Righi, le più alte al mondo, sicuramente sì, è così. Addirittura talmente complesse. Qui, vi ricordate, solamente due o tre anni fa avevamo la IUC, la TUC, mi sembrava di leggere i fumetti perché non ci si capiva più niente. Adesso abbiamo ancora l'Imu, la Tasi, la Tari. Io quello che chiedo al Governo è che ci sia una tassa unica, comprensibile. Se noi ci rivolgiamo, ammesso che qualche straniero venga a investire ancora nel nostro Paese, è quello che auspichiamo, ci troviamo di fronte a dover spiegare a questi signori cosa pagano di tasse sugli immobili che possono acquistare. Onestamente credo che anche i professionisti abbiano difficoltà a dircelo. Detto questo, però, ecco, noi stiamo facendo di tutto per riuscire a far capire al Governo che occorrono incentivi speciali per il nostro settore. Il nostro è un settore particolare, diverso da tutti gli altri. Quindi noi stiamo cercando di prorogare, sapete che abbiamo ottenuto il 50%, la riduzione del 50% di IVA, ovvero il fatto di spalmare il 50% di IVA in dieci anni dalle tasse, qualora si acquisti da una costruzione in classe A o classe B. Questa è una delle cose che stiamo portando avanti, più tutti i bonus che voi conoscete. Sembra che ci sia, soprattutto adesso, in questa rege bilancio, speriamo di riuscire a infilarcele dentro, visto che siamo anche vicino alle campagne elettorali, ci auguriamo che ci diano retta. Io credo che questo anche voi dovreste pubblicizzare, anzi, probabilmente lo fate già, quelli più preparati, molto probabilmente, sono anche più preparati di me. Per cui l'importante, però, è resistere e soprattutto credere che ci sia ancora un mercato, come io credo che ci sarà ancora un mercato. Ci vorrà del tempo, ma ci sarà senz'altro. Vi ringrazio di avermi invitato, grazie a tutti e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Presidente, grazie di cuore. Ciao.